Musica Terza edizione di Capability dal 16 al 20 ottobre a Napoli torna il festival sulla disabilità ideato dall'assessore alle politiche sociali Luca Fella Trapanese un contenitore di eventi con mostre, proiezioni, incontri, aperitivi, dibattiti e visite guidate per accendere i riflettori sulla disabilità in epoca contemporanea e considerarla come una risorsa, non un problema Partiamo dalle capacità di ognuno di noi per raccontare quello che sappiamo fare e cerchiamo di istruire e informare la società che la disabilità non è un problema ma può essere una grande opportunità di vita, di diversità se siamo pronti a prendere la persona disabile, ad accettare la persona disabile come una persona diversa Il format utilizza i social e si rivolge innanzitutto ai giovani, agli studenti per offrire una narrazione positiva della disabilità attraverso talk nelle scuole condotti da noti influencer nazionali I temi affrontati a scuola la mattina saranno oggetto di approfondimento il pomeriggio al maschio angioino con esperti rappresentanti del terzo settore, dell'università, delle famiglie protagoniste di storie e di personaggi del mondo della cultura e della comunicazione In particolare quest'anno affronteremo l'autismo e caregiver e sibling, cioè quando sono genitore di un bambino disabile o quando sono fratello di una persona con disabilità Lo faremo come ho detto in chiave moderna, cioè parlando da un punto di vista positivo della disabilità Stiamo facendo anche uno sforzo a punisse economico per garantire un miglioramento dei servizi, rimettere ordine in situazioni che erano molto confuse, anche rispetto nel passato Quindi fare un sistema più organizzato che è fondamentale per migliorare la qualità dei servizi Siamo consapevoli che c'è ancora un percorso importante da fare, però sono stati fatti dei passi in avanti significativi Tanti gli ospiti di quest'anno e le attività per bambini al Maschio Angioino ogni giornata del festival si concluderà con un aperitivo offerto da persone con disabilità e performance spettacolari Attraverso uno studio abbiamo capito che i ciechi hanno un senso che è quello dello spazio che è il più sviluppato e grazie al quale riescono a formare una rappresentazione spaziale del mondo e quindi i modelli mentali più accurati del mondo La nostra app si focalizza proprio su questa loro particolarità e gli permette attraverso un cellulare di esplorare le opere d'arte con ovviamente dei meccanismi implementati all'interno del prodotto più accurato di quello che di solito trovano grazie a altre audioguide o guide tipiche che ci sono nei musei Il programma completo è sul sito del Comune